Ciao creatura, benvenuta in questo mio nuovo video ASMR questo video sarà una prova per decidere insieme quali nuovi video realizzare ho questa idea e vorrei avere le tue opinioni al riguardo la mia idea di una nuova rubrica di più o meno settimanale, un video settimana di questo genere che potrebbe spostarsi alla domenica, adesso vediamo, oppure al giovedì l'idea è questa, di fare una passeggiata da qualche parte più spesso potrebbe essere un mercatino dell'antiquariato dato che inizia una bella stagione e io ogni domenica mattina vado a un mercatino dell'antiquariato e perché è una cosa che mi piace fare e ho fatto anche l'anno scorso e penso che farò anche quest'anno quindi dato che a molte persone piace ma non hanno la possibilità perché magari nella loro città o nelle città limitrofe non hanno questi mercatini in realtà sono un po' ovunque basta solo cercarli e sapere cosa cercare c'è un sito apposito online dove per ogni regione, ogni città dice quando è al mercatino e lo fanno spesso alla domenica mattina comunque questo video è solo per capire cosa ti piace se ti piace di più una passeggiata generica dove si vede qua e là, qualche bancherella si passa tra la gente e si vede il paesaggio e tutto oppure se preferisci che io mi attentri più nello specifico, nella bancherella e vada ad inquadrare proprio tutti gli oggetti che sono disposti sui vari tavoli per avere più nel dettaglio tutto quello che puoi comprare o trovare in questi mercatini dell'antiquariato che sono oggetti veramente particolari e stravaganti puoi trovare cose di tutti i tipi ma anche cose che non sapevi minimamente che esistessero tra vinili e oggetti di casa comunque io adoro questi mercatini e sono più per comprare cose antiche e usate che nuove ah beh aspetta per le cose tecnologiche sono più sul nuovo cioè preferisco prendere un microfono che sia nuovo un computer che sia nuovo perché già lo dovrò strausare io se è già stato usato tanto prima non va bene anche per le scarpe sono della stessa opinione perché ognuno ha il proprio piede e voglio un paio di scarpe tra l'altro che userò fino alla loro distruzione perché di solito è così e lo voglio nuovo perché voglio che prenda la forma del mio piede e non abbia forme altrui che poi mi comportano male al ginocchio e alla schiena eccetera eccetera ho già fatto quell'esperimento e no le scarpe le devo avere nuove e anche l'attrezzatura per i miei adorati video lì devo avere la nuova per tutto il resto io ah le mutande anche e gli indumenti intimi ok anche quelli nuovi per il resto io sono più per le cose usate specialmente i vestiti non sai che in questi mercatini non si trovano spesso per quelli vado al mercato tipo del martedì ma ho già fatto dei video sul mio canale principale che su quell'argomento comunque adesso in questo video noi facciamo questa prova per decidere quale inquadratura quale visual preferite di queste passeggiate se poi farò passeggiate che non prevedono mercatini allora si sarà il paesaggio non lo so il paesino e quello che che sono andata a visitare o come un vlog e se invece il mercatino che sarà più spesso così perché adesso si apre la bella stagione quindi ho intenzione di andarci praticamente ogni domenica mattina e mi sarebbe piaciuto portarmi portarmi la mia creatura cioè non posso in realtà portarti con me ma posso mostrarti come se tu fossi lì in prima persona però appunto voglio voglio avere anche un tuo feedback per sapere che cosa tu vuoi vedere quando sono ai mercatini quindi ti chiedo la cortesia di rispondere a questo video se ti piace la tipologia di video altrimenti sei libera di dire questa tipologia di video non mi piace però so che molte persone sono curiosi di vedere che cosa si può trovare in questi mercatini e io sono molto contenta di poterlo mostrare e voglio sapere semplicemente se ti piace perché io in questo video ho provato a fare delle inquadrature così finché passeggio tra le bancherelle tra la gente quella oppure mi dici no guarda io quando passi tra la folla mi viene l'ansia anche se in realtà è fatto tutto a posto per farvi vedere passiamo resta rilassato non succede nulla perché io avevo ogni tanto quell'ansia lì che quando passo tra la gente mi viene l'ansia invece mi sto abituando a stare tra la folla che non succede niente è tutto una paura mia ma in realtà non succede niente basta chiudere bene la borsa e siamo a posto insomma io ho l'ansia che mi mettono le mani nella borsa la mia adorata borsa che vedrai quante cose ho dentro la mia adorata borsa comunque poi ho pensato se invece può piacerti di più che io faccia una carellata proprio di tutta la bancherella quindi mi puoi dire sì io preferisco bello il mercatino però mi piace proprio il mercatino voglio vedere che cosa trovi in questi mercatini allora io andrò proprio superando la mia vergogna perché ho vergogna te lo dico sinceramente spesso mi imbarazzo ecco vergogna in quel senso spesso mi imbarazzo avvicinarmi alle bancherelle perché sono timida anche se non succede niente nessuno mi fa niente però è nella mia testa vabbè e così mi sfiderò anch'io a riprendere proprio oggetto per oggetto per farti vedere che cosa si trova e oppure se preferisci uno sguardo e via una cosa più sfuggente tanto butti l'occhio e via perché magari troppo lento un video può essere anche nuioso vabbè che è un video smr ma ognuno ha il proprio punto di vista io leggerò tutti e poi cercherò di fare una cosa che vada bene per tutti non sarà facile ma insomma con tutte cioè da domenica prossima in poi ce ne saranno di video che potrò realizzare e quindi riuscirò ad accontentare un po' tutti e mi piacerebbe se riesco a fare anche un video dove cammino tra la folla adesso quando peccherò qualche fiera cammino tra la folla in mesta tanta gente per le persone come me che hanno ansia per abituarle a stare in mesta alla gente e fare un audio magari va tutto bene tutto ok non succederà nulla perché secondo me può servire qualcuno e poi dopo aspetta a voi aspetta a te creatura andare in mezzo alla gente e provarci la prima volta magari non ci riuscirà la seconda andrà un po' meglio sempre meglio insomma come ho fatto anch'io non c'è nulla da da nascondere non c'è nulla di cui vergognarsi abbiamo tutti delle fragilità diverse dei problemi diversi ma non bisogna vergognarci chi prende in giro su queste cose ha molti più problemi di noi quindi mi fa anche pena e vabbè insomma come primo audio volevo fare un inaudible ma ho deciso di spiegarti la mia idea così perché perché alcune persone magari lo scrivo nell'infobox ma poi non vanno a leggere così almeno siete costretti ad ascoltare la mia idea per vi rilassate vi rilassi ascolti la mia idea e così puoi rispondere al mio diciamo insomma puoi aiutarmi ma aiuti te stesso alla fine perché realizzeremo insieme tutti questi video rilassanti ma allo stesso tempo secondo il mio punto di vista poi dipende ecco secondo me sono rilassanti ma anche utili perché curiosi insomma oltre a rilassarti vedrai anche delle cose che magari non non vedresti non vedresti ok e io penso che io vorrei anche aiutarti spronarti ad uscire di più perché guarda quante cose ti stai perdendo restando in camera ok ti potrei sentire sicuro in camera tua ma quante cose ti stai perdendo ok io non ho comprato niente quel giorno però quanto mi è piaciuto vedere tutte quelle cose e quanto mi piace tornarci la domenica non prossima perché ogni domenica del mese vado in un mercatino diverso e tipo l'ultima domenica del mese c'è quella di Piazzolo sul Brenta per dire l'unica che mi ricordo questa qui di questo video è Stellata e dove fanno il Bundan tra l'altro che io adoro che è la festa celtica l'anno scorso non ci sono andata e perché ho avuto un problema che era in ospedale però quest'anno spero di andarci non vedo l'ora io adoro quella festa quindi fanno anche questo mercatino quindi top stellata I love you e ti racconto un piccolo annettodo successo domenica in questo mercatino c'era una pancherella non l'ho filmato tutto ho fatto solo questi 17 minuti circa come prova ma aveva tante 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 più bancarelle e la prossima volta se questo video vi piace questa idea vi piace la prossima volta farò tutto tutto il mercatino quindi verrà molto più lungo poi ci sarà anche da off topic ci sarà da decidere l'audio ma ne parliamo dopo è successo questo c'era una bancarella con dei tappi tipo pesca di beneficenza e mio papà va dai peschiamone una testa perché c'erano siccome era di beneficenza c'era come i premi c'erano la pasta i wafer biscotti i salami è passato un uccellino i salami e mio papà ha detto no voglio vincere il salami anche io voglio vincere il salami allora pronti pesca mio papà vinto niente pesco io tappo nero tirato su erano tutti gialli sotto avevano ognuno aveva un colore io tappo nero ovviamente cioè la pasta ho vinto vabbè volevo il salami accidenti vabbè e comunque oltre al visual cioè quello che vedrete nel video dovremo anche decidere quali audio vi piacciono di più di sottofondo di questi video io non posso lasciare l'audio originale perché c'è troppo casino non è proprio così ASMR non è molto rilassante anche se mi piace molto l'accento ferrarese ma e comunque non sono tutti lì a Ferrara ai mercatini sono anche da altre parti anche verso il Padovano eccetera eccetera ma c'è troppo caos non posso lasciare l'audio normale quindi come secondo video allora se mi seguite su Instagram ho chiesto e tanti tanti mi hanno detto inaudible quindi nel secondo video inaudible però se volete scrivermelo anche qui oppure se volete seguirmi su Instagram e mi lo scrivete lì quando lo richiedo anche come messaggio privato in direct va benissimo io accetto tutte le le vostre idee proposte eccetera eccetera e ho ricevuto anche delle mail con delle richieste di video ma quelle sono un'altra cosa io voglio sapere adesso voglio sapere da te cosa ne pensi di questa mia idea che come vuoi che sia strutturato il video e anche se vuoi dirmi che audio ti pensi ti potrebbe rilassare per questi video passeggiata insieme nei mercatini o passeggiata insieme da qualche altra parte quindi aspettate la prossima volta ci sarà un inaudible perché sappiamo tutti che è il mio cavallo di battaglia l'inaudible cioè c'è poco da dire io sono level pro con l'inaudible che tra l'altro leggo sempre quando faccio inaudible ti svelo il mio segreto leggo sempre il solito libro che è between the foot che praticamente avrò solo io e la scrittrice non so quanta persona mi hanno comprato e la ragazza che ha fatto la copertina che conosco entrambe quindi ok comunque non so perché ma mi ispira all'inaudible quel libro e io ti ringrazio per aver messo mi piace per esserti iscritto se non ti sei ancora iscritto per continuare a seguirmi a sostenermi per aver commentato con le tue idee con il tuo parere i tuoi punti di vista grazie mille questi video li faccio per voi li faccio per me li faccio li facciamo li faccio da sola ma li facciamo insieme con tutte le idee e perché io farei di testa mia ma c'è l'importante che siate voi a trarne beneficio quindi è giusto che ascolti le vostre idee quello che le vostre preferenze insomma giusto allora adesso ti dico buonanotte creatora buonanotte buonanotte ciao creatora ciao dormi 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 Grazie a tutti.